Bene, ora passiamo a una relazione molto, sicuramente molto, molto interessante, una relazione che terrà il professor Massimo Colombro, noi lo chiamiamo il maestro, io lo chiamo il maestro, un grande medico conosciuto a livello nazionale e internazionale, una persona che se ne intende di scienza e quindi ci parlerà di scienza, di questi nuovi farmaci che stanno per arrivare. Prego, prego professore. Grazie presidente, buongiorno cari colleghi, amici affiliati all'associazione, un vero piacere poter contribuire al dibattito in corso con questa presentazione che spero sia in grado di porre appunto il focus sui punti di snodo per lo sviluppo dei nostri trattamenti standardizzati dell'epatite virale C con tutti questi limiti che voi sapete. Questi sono i miei conflitti di interesse. È inutile che io ricordi qui in aula l'importanza sostanziale della infezione cronica col virus del PTC in Italia perché non è soltanto l'aspetto numerico perché fortunatamente la grande maggioranza di queste infezioni non esita in eventi clinici disperanti ma perché nei fatti quei molti pazienti che hanno cirrosi sono riconducibili a questa infezione cronica è la causa nella metà dei casi di cirrosi, di cancro ed è una maggiore indicazione al trapianto ortotopico di fegato piuttosto trascurato è anche l'aspetto e l'impatto che questa infezione può avere su delle manifestazioni extrepatiche come il linfoma non-Hochin che noi, la cui importanza noi apprezziamo ogni giorno sempre di più nel setting del trapianto ortotopico di fegato dove più fattori guidano il rischio di sviluppo di questa neoplasia per fortuna trattabile e delle insufficienze renali regate a lesioni vasculitiche si calcola che muoiono circa 10.000 persone l'anno per questa infezione e questo è il fardello economico che determina a livello dei ricoveri ospedalieri secondo stime piuttosto aggiornate mi piace ricordare che se oggi noi possiamo parlare dello sviluppo di trattamenti standardizzati altamente efficaci, sicuri e come dicono gli inglesi user friendly lo dobbiamo a tre snodi fondamentali, negli anni 75 era stata identificata l'epatite trasfusionale non-Hanon-B da un gruppo di ricercatori e il nostro comune amico Harvey Halter che ancora fa letture stupende sull'argomento ce lo ricorda, è stata un'epoca pionieristica e questo ha gettato le basi per una serie di studi raccogliendo casistiche, compreso quella di Milano che ha contribuito insieme a quella di Torino al successo che Mike Houghton ha ottenuto nell'89 nell'isolare e clonare il virus dell'epeteci che ha fornito immediatamente un mezzo diagnostico importante per purificare il sangue dal rischio trasfusionale voi sapete che questo è un beneficio non trascurabile nel mondo ricco che però apporta pochi benefici nel mondo povero di risorse dove la trasfusione di sangue veicola ancora notevoli rischi alcuni milioni di infezioni trasmesse in questo modo ogni anno però pochi sanno, ma è giusto che sia così nella comunità non medico-scientifica che se oggi noi parliamo di trattamenti orari lo dobbiamo unicamente a questo gentiluomo questo grande scienziato di Heidelberg e Barteslager che è riuscito a costruire un meccanismo per infettare cronicamente una cellula umana di neoplasia una signora che morì di un tumore ovarico negli anni 20 in Sudafrica e creare dei meccanismi da banco, da laboratorio per riprodurre delle piccole infezioni virali né più né meno simili biologicamente a quelle che affliggono l'uomo creando così dei modelli facili da usare per testare i farmaci e fino allora si doveva ricorrere al dispendioso e protetto da vincoli di eticità modello del scimpanzè costosissimo e limitato nell'applicazione da allora, dal 99, abbiamo questi modelli da banco e l'industria ha potuto scrinare i farmaci se voi considerate che un farmaco che potete acquistare oggi in farmacia è il frutto di una selezione probabilmente, ci sono esperti maggiori di me che lo possono dire uno su diecimila, ogni diecimila molecole una diventerà un farmaco potete pensare che quei dieci farmaci che oggi sono disponibili in potenza per la cura delle protec derivino de facto da uno screening di almeno centomila molecole e lo dobbiamo a Barteslager questi gli snodi fondamentali che ci permettono di dire oggi che cosa abbiamo? oggi cosa abbiamo? abbiamo praticamente una sorta di situazione di farmacoterapia per l'epatite C come voi sapete, più potenziale che reale per i motivi che i miei colleghi poi vorranno discutere con voi in cui il mondo è diviso un po' tra guelfi e ghibellini se volete allora scegliete voi chi è il guelfo e chi è il ghibellino ma c'è una serie di aziende che ha sviluppato delle regimi terapeutici senza l'analogo nucleotidico che è quel farmaco che interrompe la catena replicativa del virus la famosa polimerasi o terminatore di catene quindi colpisce il virus nel suo cuore replicativo e anche quando in qualche rarissima occasione produce una piccola forma di resistenza genetica siccome ha colpito il virus nel cuore dà origine a dei mutanti genetici che sono incapaci di sopravvivere quindi queste diciamo forme di resistenza hanno un impatto clinico triviale, banale, non rilevante ecco, chi non possiede questa molecola attualmente ha costruito delle forme, delle organizzazioni di regimi basati sulla composizione di più farmaci che colpiscono il virus in più regioni queste torte vuol dire che qui sono gli inibitori delle proteasi tipo la prima generazione telapre virbocepoli ma molto più sofisticata ora e molto più diciamo sicura con gli inibitori della regione NS5A del virus che partecipa alla replicazione associato a degli inibitori della polimerasi non nucleosidici e con la fecchia ribavirina ed eventualmente adesso si spera di avere dei regimi più semplici di seconda generazione di due sole molecole inibitori delle proteasi NS5A accanto a questi abbiamo diciamo quello che adesso domina la scena che ha rubato la scena internazionale cioè il regime basato sul analogo nucleotidico quello che noi speriamo presto di avere a disposizione combinato con inibitori del NS5A e anche questo è già stato registrato negli Stati Uniti e diciamo consigliato di registrare in Europa oppure questo che noi chiamiamo un regime off-label perché attualmente non è ancora prescrivibile diciamo registrato formalmente negli Stati Uniti ma è stato largamente usato il cosiddetto schema Cosmos l'analogo nucleotidico insieme all'inibitore del proteasi Simeprevir e Sofosbuvir eventualmente un nuovo regime che è molto promettente dove si combina l'analogo nucleotidico con la ribavirina e un inibitore del polimenasi non nucleotidico che come vedremo è nel futuro forse l'alfiere di una terapia pangenotipica fantastico allora questa è la situazione attuale se volete molto semplificata noi attendiamo a breve la prescrivibilità del regime tuttorale Sofosbu e Ribavirina che è altamente subottimale nel genotipo 1 e francamente gli esperti preferiscono considerarlo solo per situazioni piuttosto drammatiche come per esempio il pre-postrapianto o lo scompenso di fegato nel genotipo 1 mentre appare molto efficiente nel genotipo 2 ma problemi di costo efficacia suggeriscono che sarà molto difficile poterne disporre diciamo in modo efficace sul genotipo 3 funziona bene nei pazienti cosiddetti naive mai trattati in quelli con cirrosi già trattati crea dei problemi invece come vi dicevo ci sono dei regimi che sono off-label negli Stati Uniti da circa 9 mesi ampiamente prescritti altamente efficaci nel genotipo 1 se uno non ha i soldi per comprare il nuovo Simé Prever che tutti aspettano può usare il vecchio Telapre lo combina con Sofosbuir qui il dottor Morelli ha appena presentato a New York 20 casi fantastico quasi tutti guariti è stato recentemente registrato negli Stati Uniti e con prezzo e lo speriamo presto in Europa la combinazione Sofosbuir con il limitore NS5A singola pillola fantastico 95 di guarigione per cento fantastico anche nel difficile da curare genotipo 3 soprattutto i pazienti che hanno fallito trattamenti con interferone di bavirina e naturalmente il Sofosbuir con Endaclatasvir che ha altrettanti numeri di successo quindi una situazione devo dire davvero incoraggiante per andare sul territorio e cominciare a trattare la Società Europea Studio Fegato ha rilasciato prima ancora di disporre di studi validati sul territorio nella pratica clinica una serie di indicazioni consigliando il regime terapeutico che voi qui vedete ancora col vecchio interferone per tre mesi col Sofosbuvir o con le altre due molecole che speriamo diventeranno disponibili tra breve in Italia per questa serie di pazienti con questi genotipi vi devo dire però che oggi come oggi i nostri pazienti sono riluttanti ad accettare l'offerta dell'interferone e io ragionevolmente credo che abbiano una serie di buoni motivi la soluzione tutta orale che ci sta arrivando altamente insufficiente nel genotipo 1 lo diventa però necessario quando esistono delle controindicazioni ad uso di interferone oppure quando vi sono delle comorbidità che sconsigliano l'uso dell'interferone mentre in altri genotipi facili da curare può essere somministrato queste sono le raccomandazioni europee però costruite prima ancora che esistessero dei dati basati su efficienza nel territorio i cosiddetti studi di pratica clinica allora se un medico un epatologo milanese o pavese o romano si vede finalmente riconosciuto la possibilità di somministrare il trattamento ai propri pazienti la domanda che probabilmente si pone ma forse una domanda che prima di noi si dovrebbe porre l'autorità preposta è quali sono le opzioni terapeutiche in termini di strategia visto che questi farmaci sono assolutamente efficaci assolutamente sicuri assolutamente tollerati ma sono anche assolutamente costosi vi sono in linea puramente teorica due opzioni che una persona potrebbe seguire l'opzione prima è quella di trattare tutti quelli che arrivano con lo scopo di radicarlo dal territorio qualcosa che è scientificamente poco perseguibile se manca un vaccino col vaccino riesce a ottenere questo obiettivo con la chemioterapia o con la terapia tradizionale è ragionevolmente improbabile questo ha diciamo dei pro che sono quelli di indurre una serie di benefici clinici nella popolazione in generale ovvio no però i costi occorrono una quantità di denaro immediato enorme noi qualcosa del genere teoricamente lo stiamo già facendo con l'epatite virale B dove noi trattiamo tutti gli old commerce tutti i pazienti che troviamo anche di età elevata 85 anni però lì noi abbiamo adottato una sorta di politica economica che assomiglia al leasing il paziente con l'epatite cronica virale B richiede di essere trattato per tutta la vita perché la cura dell'epatite B che è simile alla cura dell'epatite C colsofosbu che intanto per intende sono farmaci simili determina la soppressione permanente del virus dell'epatite B non la sua eradicazione dal corpo quindi tu sei costretto a trattare il tuo paziente per tutta la vita e spendi 3-4 mila euro ogni anno nei 20-30 anni in residui di vita di quel paziente quindi una sorta di leasing automatica non devi uscire immediatamente con decine di migliaia di euro in tre mesi per guarire ed eradicare l'infezione come invece è lo scenario dell'epatite virale C l'alternativa allora è quello che fa di necessità virtù di trattare dei gruppi selezionati sulla base della gravità della malattia dalla loro impossibilità di ricevere i trattamenti disponibili a base di interferone e questa è la strategia che salva la vita ma è certamente non costo efficace vedremo perché è moralmente eticamente doverosa ma non è costo efficace infatti con questa strategia cosa faccio io io prendo in considerazione i pazienti che hanno una cirrosi che noi consideriamo l'inizio dei problemi dell'epatite cronica virale C in termini pragmatici clinici e qualunque regime decida di attuare qui vedete questi sono quelli che dovrebbero arrivare l'anno prossimo o comunque questo è quello off label di Stofosbo di più simepri ma ce ne sono di altre case farmaceutiche fantastici guardate i numeri qui si va dall'80 al 100% di guarigione su campionature magari non entusiasmanti con tempi di cura che viaggiano tra 12 e 24 settimane e si può fare di più si può andare a prendere quei pazienti che hanno una cirrosi molto avanzata che hanno fallito le famose cure triplice interferone che tendono a scompensare che tendono a scompensare o che sono subscompensati li tratti con una combinazione di Stofosbo più le Dipas quella che speriamo di avere rapidamente anche noi in Europa e in Italia e questo è lo studio che verrà presentato de facto tra un mese a Boston da Burlier e voi vedete de facto il 97% di guarigione SVR vuol dire risposta virologica sostenuta 12 settimane dopo la fine della cura una cura che dura 12 settimane se aggiunge la ribavirina o 24 senza e questa vecchia cara ribavirina che si dimostra strumentale ad ottenere guarigioni nelle popolazioni più difficili come appunto il cirrotico molto avanzato che ha fallito una cura precedente e possiamo spingerci ancora oltre andare nel cirrotico decompensato cirrotico si chiama si definisce decompensato quando sviluppa ascite, itero encefalopatia o ha un episodio emorragia da rottura di varici e se voi avete la prudenza di iniziare il trattamento con una dose a salire leggera di ribavirina di 600 mg che è grosso modo la metà di quella standard e somministrate un trattamento a base di sofosbuvir ledipasvir e ribavirina i genotipi implicati in questo caso sono l'uno quello dominante nell'epidemiologia dell'epatite europea e quattro quello che abbiamo importato dal nord Africa ma endemico in certe popolazioni a rischio dell'Europa e voi otterrete 90 92 eccetera percentuali di guarigione definitiva in una popolazione che fino a ieri aveva probabilmente come unica via d'uscita pragmatica il trapianto ortotopico di fegato quindi se si segue la strategia del cosiddetto approccio a salvare la vita abbiamo degli strumenti fantastici ma qual è il problema il problema è che siamo dubbiosi che questa strategia dovuta voluta e che sarà indispensabilmente la prima forma di approccio terapeutico sia cost effetti dove per cost effetti si intende la domanda stai spendendo al meglio possibile il denaro che io ti do va bene salvare una vita è sempre un ottimo investimento un dovuto investimento però guardate questo studio che va indietro all'epoca delle guarigioni con interferone siamo in Asia Taiwan 870 pazienti guariti con interferone ribavirina 50 hanno sviluppato un epatocarcinoma nei 41 mesi successivi di monitoraggio e quando si è visto quali erano i fattori che determinavano l'epatocarcinoma nei guariti definitivi era l'età sopra i 60 anni e la cirrosi al punto che in questo gruppo di pazienti che avevano questi score predittivi negativi il tasso di sviluppo dell'epatocarcinoma era del 5% all'anno simile a quello del paziente rimasto viremico e questo vi dice subito che probabilmente la strategia attuale che siamo forzati a seguire per ragioni di limite di budget e che è quello di deferire il trattamento nei giovani verso le popolazioni più anziane è improbabile che sia cost effective ma naturalmente è validato in modo perfetto ma diciamo l'impressione è questa ok se invece di trattare quelli che dobbiamo trattare perché sono i più gravi volessimo diciamo volessimo approcciare tutti quelli che sono sul territorio ritrovabili con l'epatite C per essere cost effective cioè per essere sicuri che il nostro denaro è stato speso al meglio perché preveniamo la morbidità e la necessità di aderire di accedere alle sorveglianze e alle cure mediche negli anni a venire che cosa succede? beh succede innanzitutto che quello che è successo in America questo è uno studio di pratica clinica che verrà discusso ampiamente a Boston tra un mese in America come vedete è de facto questo PEG che vuol dire interferone i regimi con interferone non li vuole nessuno insomma tre quattro probabilmente tre quarti dei pazienti vogliono regimi tutti orali di sofosbuli simeprevir con ribavirina o quei pochi che possono guarire per il genotipo facile con soffo e riba e già questo è un problema bisogna ritagliare uno schema di trattamento che è quello tutto orale e come voi vedete anche nei genotipi facili dove c'è stato il grande successo e dove è noto che l'interferone funziona questo povero PEG interferone ormai insomma è andato e questo riflette anche il sentire comune della popolazione dei pazienti italiani dove noi a Milano ma immagino in altre sedi troviamo estremamente difficile riuscire a somministrare trattamenti a base di interferone e devo dire che se si va a guardare grosso modo qual è l'efficienza dei trattamenti nella vita pratica nella medicina pratica di sofosbuli interferone ribavirina che sarebbe domani se ci registrano la prescrivibilità del sofosbuli il trattamento più conveniente per i pazienti afflitti da genotipo 1 che è dominante in Italia la efficienza terapeutica esattamente sovrapponibile a quella degli studi di registrazione però noi dobbiamo guardare in avanti e augurandoci appunto che il dottor Pani presto ci darà la possibilità pratica di essere efficienti sul territorio con i nostri pazienti sapere che c'è in atto una serie di studi e qui vedete voi quali sono le aziende coinvolte qui c'è Gillian qui c'è Achillian qui c'è Merck qui c'è ancora Gillian però per carità non dimentichiamo ABV e non dimentichiamo Bristol Mears che vanno verso la seconda ondata di sviluppi che è quella di accorciare la durata perché si vuole accorciare la durata beh da un certo punto di vista uno dice perché vogliamo aumentare l'aderenza più lunga è la cura più difficile l'aderenza in realtà l'aderenza a me non pare sia stato un grande problema in questi trattamenti lo potrebbe essere forse quando si cerca di portare il trattamento in aree del mondo diciamo meno beneficate dalla cultura sanitaria e voi sapete che sono le zone esattamente predominano l'infezione cronica virale C bene se pigliate dei pazienti mai trattati che non sono cirrotici quindi facili da trattare da un certo punto di vista vedete che vi sono dei trattamenti a base di due molecole che permettono di ottenere dei tassi di guarigione la famosa SVR nell'arco nell'ambito dell'80-100% con trattamenti di 4-6-8 settimane e già oggi voi sapete negli Stati Uniti è prescrivibile un trattamento che si chiama Arvoni cioè sofosbovir più o l'edipasvir per i pazienti con epatite cronica C di genotipo 1 che hanno una malattia epatica blanda cioè non cirrogina basata su un trattamento di 8 settimane quindi questo va abbastanza bene e naturalmente siamo molto molto interessati a vedere quale sarà lo sviluppo della terza ondata di ricerca che è già in atto già sono stati presentati a Londra a Leas questi dati e lo verranno confermati qui a Boston esiste una combinazione di sofosbovir con un inibitore dell'N6-5A che è quella famosa regione strategica per la replicazione del virus questa volta però di seconda generazione che si presenta come una specie di vero fuoriclasse perché la combinazione di queste due molecole ancora per un tempo standard permette un attacco pangenotipico il problema del trattamento delle epatite C nelle zone che sono povere di risorse economiche oggettivamente è quello di poter determinare la diagnosi cioè poter fare un test che dica se un soggetto è viremico e identificare il genotipo perché voi avete benissimo capito che l'efficienza di queste cure è genotipo dipendente in molti casi se si riesce a superare questo ostacolo diciamo territoriale è chiaro che queste cure possono essere lanciate in modo massiccio e quindi portare il famoso beneficio nell'ottica di un trattamento di popolazione allargata naturalmente il fatto che si voglia identificare una magica pillola che contenga due componenti che possa curare tutti i genotipi deve però in qualche modo essere compatibile con quella che è l'esigenza di quando noi medici vogliamo curare i pazienti con epatite C e cioè di costruire un regime terapeutico che si fondi su tre colonne irrinunciabili che è ottenere una soppressione virale prevenendo l'insorgenza di INSS di resistenza e probabilmente guardate è determinante anche la durata del trattamento perché noi l'abbiamo imparato prima con l'interferone e poi con la terapia triplice e più recentemente con la terapia duale tutta orale che alcune categorie di pazienti richiedono dei trattamenti prolungati per avere il loro fegato bonificato dal virus uno su tutti il paziente con una cirrosi clinica che non è solo quella istologica è quella accompagnata da varici da riduzione dell'albumina e da situazioni di precario equilibrio clinico e questo introduce un concetto molto semplice ma è così giusto andare in direzione di sviluppare un solo regime personalmente ritengo assolutamente no e le ragioni sono due una è anzitutto egoistica perché questo toglierebbe al medico quella che è una sua prerogativa se la professione medica si compone di una base solida che è la scienza cioè la capacità di riconoscere accettare e digerire dati basati su prove cliniche ma che ha anche una componente rinunciabile che è quella dell'arte professionale dove ognuno di noi cerca di riuscire ad entrare in fine tuning con il paziente che ha di fronte e quindi elaborare strategie di cura differenziate personalizzando le cure l'idea di sviluppare un trattamento rigido che possa servire tutte le necessità terapeutiche dell'epatite C è secondo me un po' offensivo per il concetto di fare il medico ma più pragmaticamente probabilmente è anche offensivo in termini clinici perché esistono una serie di pazienti con una malattia debole che possono essere guariti da regimi terapeutici brevi accanto a una serie di pazienti con malattie robuste che richiedono invece un trattamento più prolungato e più potente cioè che rischiano pazienti che rischiano di essere sottotrattati un esempio su tutti e questo è un fantastico studio perché è stato uno dei primi studi a dimostrare che si può guarire facilmente il paziente cirrotico compreso la quota avanzata con funzione epatica molto deteriorata e in questo studio un regime terapeutico che non conteneva analogo nucleotidici si dimostrò fantastico tassi di guarigione con un range che andava dall'80 al 100% però in una subanalisi apparve abbastanza chiaro che esistevano alcune situazioni cliniche come i pazienti con poche piastrine circolanti o pazienti con poca albumina cioè con due marcatori di cattivo equilibrio midollare e di funzione epatica cirrosi molto avanzata nei quali per esempio i migliori risultati terapeutici erano ottenuti cioè si restava tra 90 e 100 di guarigione invece che tra 80 e 100 per parlarci chiaro usando dei regimi terapeutici lunghi di 24 settimane mentre se si andava corti c'era una serie di pazienti che avevano una probabilità di guarire bassa per esempio si arrivava a 70% di guarigione come in questo caso quei pazienti avevano meno di 3,5 grammi guardate che meno di 3,5 grammi di albumina vuol dire focalizzare sul paziente che ha maggior rischio di decompensare a breve termine aprondisi più severa e anche il paziente per esempio di quelli che a suo tempo non tollerava affatto non tollerava affatto il regime con interferone per cui per fare breve un discorso lungo esistono sicuramente nel mondo dei pazienti con epatite cronica virale C alcune sottopopolazioni che dobbiamo definire un po' speciali perché potrebbero richiedere una particolare attenzione terapeutica in termini di dose e durata del trattamento ho brevemente accennato ai pazienti con cirrosi che possono ricompensare ma qui l'amico Puoti può elaborare sulle coinfezioni HCV che è un mondo eterogeneo perché finora abbiamo avuto esperienza nei pazienti con un'infezione HIV compensata o dominata dal trattamento antiretrovirale ma esistono anche delle sottopopolazioni che non rispondono a questa logica i pazienti che hanno avuto una precedente risposta nulla ai trattamenti con interferone che fanno riaffiorare ancora forse l'interesse per i preditori genetici quella famosa interleuchina 28b che ha guidato il successo nel trattamento a base di interferone per non parlare dell'ambiente del trapianto di fegato dove probabilmente noi oggi siamo in grado di dominare abbastanza facilmente l'infezione nella fase diciamo post-trapianto con alcuni regimi ma non con altri per colpa se volete della possibilità di interreazioni farmaco-farmaco in quanto questi pazienti sono complessi e sono esposti a una serie importanti di farmaci per cui in sostanza la domanda ovvia che tutti noi ci stiamo ponendo se possiamo eradicare l'infezione virale C a livello planetario o più semplicemente nazionale disponendo soltanto di un trattamento diciamo volgarmente chemioterapico quindi mancando il vaccino che manca nel setting dell'epatite virale C è ancora molto dubbio qualcosa lo favorisce non c'è riserva animale è vero virioni epatite C simili sono stati identificati nel cavallo e nel cane ma non vengono trasmessi all'uomo quindi de facto non c'è un reservoir extraumano le cure ve le ho già detto come sono facili efficaci sicure ahimè costose e ci sono però delle barriere le barriere sono che non abbiamo mai scrinato la popolazione per una ragione molto ovvia non disponendo mai di un farmaco efficiente perché l'interferrone potrebbe essere applicato a un paziente su tre e quando applicato guariva un paziente su tre non abbiamo mai fatto venire in superficie l'enorme popolazione di pazienti infetti si compone di una vasta maggioranza di persone che sono state infettate nel dopoguerra con trasfusioni infette o con siringhe da aghi infette e più recentemente una popolazione di due trecentomila persone giovane in cui l'infezione sarà trasmessa con i rischi parenterali nei quali oggettivamente bisogna discutere se l'epatite C è il fattore di malattia più importante per queste persone per stile di vita per facilità di abuso di farmaci o consumo di droghe di alcol alla fine risulta una popolazione con molti fattori di potenziale letalità non solo dell'epatite C chiaramente è un fattore condizionante il costo e non dimenticiamoci la reinfezione tutti noi siamo stati molto contenti nell'apprendere che l'Egitto disporrà fra breve di 7 milioni di trattamenti di epatite virale C scontati al 99% ma il problema dell'epatite C in Egitto non è dare 7 milioni di trattamenti è come impedire quel 50% di reinfezione che piglierà piede inesorabilmente in quanto in quel paese non ci sono risorse culturali ed economiche per fare barriera alla trasmissione dell'epatite C si continua ad usare siringhe ed aghi reciclati e quindi sarà 50% di reinfezione grandi risorse secondo me devastate allora cosa potremmo fare noi in Italia potremmo tentare di riconoscere qual è la popolazione più a rischio di epatite C e cominciare a tentare di inquadrare il problema su chi più rischia una malattia evolutiva come voi sapete gli Stati Uniti sono ragionevolmente fortunati per quanto concerne la loro epidemiologia dell'epatite C perché tre quarti dei casi sono concentrati nei baby boomers tra coloro che sono nati tra il 45 e il 65 sclinando quelli portano a casa tre quarti del loro problema ma se voi applicate questa strategia del cosiddetto baby boomer all'Europa voi vedete che ci sono molti pazienti che cedono questi criteri in Italia non è nota la situazione probabilmente noi siamo dentro qui molto ma siamo fuori qui per esempio per i gruppi parenterali a rischio e soprattutto per i migranti la Germania ha affrontato questo problema in modo tecnico e ha dimostrato che per esempio in questo paese dove l'epatite C non è acquisita nella comunità con metodi tradizionali tipo quelli italiani da trasfusione infetta o da uso domestico di siringhe e ha visto che sono i rischi parenterali le vecchie esposizioni a trasfusione infetta e il contributo delle popolazioni migranti a far lievitare il rischio di infezione e quindi applicando questo paradigma loro potranno riconoscere facilmente il bersaglio della loro campagna se tendono ad eradicare non imparerò mai qual è il momento giusto la ditta che attualmente domina la scena perché è monopolista in senso di produzione e di registrazione di farmaco antiepatite C ha firmato un accordo con sette società indiane di produzione per produrre un generico voi sapete che il generico permette di diffondere la terapia a prezzi e contenuti per 91 pazienti che hanno una posizione economica di sofferenza cioè in sviluppo e questo è l'elenco e questo è veramente qualcosa di benvenuto a livello mondiale però l'Italia non è chiaramente diciamo rappresentata in questo e quindi noi dobbiamo attendere pazientemente le decisioni basate sulle nostre attuali risorse economiche ci auguriamo presto di disporre ma il dottor Pani ce lo dirà allora per concludere e per cercare di riassumere un po' le idee l'epatite virale C è difficile controllarla a livello globale perché ci sono una serie di sfide da superare è ovvio che noi siamo in grado di eliminare in modo definitivo questo virus dall'organismo umano questa è l'unica infezione cronica guaribile non è così guaribile la tubercolosi non è così guaribile ovviamente la lebra non è così guaribile l'epatite cronica virale B non è guaribile l'HIV l'epatite virale C viene invece eradicata dal corpo umano fantastico la trasmissione può essere controllata e l'Italia ci è riuscita negli ultimi 20 anni oggi il tasso di infezione nella popolazione è stato ridotto ai minimi termini sono episodici i casi di epatite trasmessa nell'ambito ospedaliero o extra ospedaliero se si dimentica un attimo le comunità a rischio come le comunità chiuse recluse prigionieri o le comunità a rischio parenterale come le persone che fanno uso di farmaci in vena e soprattutto non c'è una riserva non umana che possa fungere da continua infezione nostra però naturalmente ci sono dei problemi ci vuole una infrastruttura adeguata per questo noi ce l'abbiamo probabilmente ma attivarla probabilmente richiede un dispendio economico che sentiremo possiamo affrontare occorre molto denaro lo sentiremo e questo io ho apprezzato molto perché negli ultimi anni grazie alla costante presenza delle advocacies come si dice nel mondo britannico cioè delle associazioni dei pazienti che sono riusciti a fare un sano generoso e fruttifero lobbying verso le istituzioni vi è stata una presa di coscienza a livello amministrativo e politico sufficiente per poter rendere possibile quello che noi ci auguriamo e cioè una sistematica lotta all'epatite virale C portando a casa quindi dei benefici non più a livello individuale nel dialogo paziente medico ma a livello di popolazione grazie per la vostra attenzione grazie grazie professore grazie